Parlando di giovani e di cambiamento, di impresa nel futuro, parliamo di eco-innovazione. Questi giovani sono portatori di valori nuovi, di un atteggiamento nuovo o no? Certamente il futuro dell'impresa oggi passa attraverso tre aspetti fondamentali che sono i giovani, l'ambiente e l'innovazione. Quando parlo di giovani mi riferisco in particolare ad un processo che sta interessando molte delle nostre aziende perché molte di esse stanno attraversando quello che va sotto il nome di passaggio generazionale. Quindi cambia la guida, cambia anche la leadership e questo processo sicuramente porta a una nuova linfa per le imprese. Nuova linfa, nuovi programmi, nuovi modelli di sviluppo per le imprese. Tra questi c'è sicuramente quello che punta tutto sulla green economy. Ma per poter attuare questi piani, questi programmi, inevitabilmente occorre compiere un vero e proprio salto culturale, un vero e proprio investimento in cultura. E questo investimento non possiamo farlo altro se non noi. Noi che siamo appunto i giovani, noi che dobbiamo necessariamente costruirci il nostro futuro. Per cui dobbiamo necessariamente puntare all'impresa verde, alla green economy, all'ecosostenibilità. E questo è certamente un passaggio che dovremo compiere in tempi molto brevi. Perché ci sono molti paesi che già stanno puntando in questo senso. Penso non tanto ai paesi europei, come per esempio la Germania, che in questo è sempre molto avanti, ma anche la stessa Cina, l'Asia, che magari noi siamo abituati ad immaginare come il paese che inquina. Ma in realtà così non è. Perché molte imprese che si trovano anche in Cina si stanno accorgendo che, grazie anche alla loro attività di esportazione, in particolare anche in Europa, si stanno accorgendo che per poter esportare in Europa devono necessariamente conformarsi appunto anche ai nostri standard di qualità che chiaramente puntano sull'ambiente. Per cui dobbiamo appunto essere celeri, dobbiamo raggiungere questo obiettivo nel più breve tempo possibile. Questo poi tra l'altro non è, come dire, un'utopia perché abbiamo già degli esempi di eccellenza in Italia. Mi viene in mente per esempio il caso di Bolzano, che è una città che oggi è definita la regina, la capitale del benessere in Italia. Ed è un esempio proprio perché il rapporto tra lo sviluppo sostenibile e lo sviluppo socio-economico-civile di questa città sono perfettamente in sinergia. Tra l'altro è una città che attrae anche nuovi investimenti, nuovi imprenditori. E' un po' un polo di attrazione che io credo debba essere preso come modello per lo sviluppo delle nostre imprese. Chi vuole dire che a salvare il mondo, ma anche l'economia, nel senso questa economia tanto attesa, questa ripresa tanto attesa, saranno proprio i giovani a salvare il mondo? Indubbiamente noi siamo chiamati a compiere questo, a raggiungere questo obiettivo. Certamente la sfida non è semplice, ma noi proprio perché siamo giovani dobbiamo necessariamente raccogliere questa sfida con quell'entusiasmo che poi è tipico dei giovani di Confindustria. Sono bamboccioni questi giovani o possono fare qualcosa di importante? Non sono bamboccioni, ma sono dei grandi combattenti e hanno anche, ripeto, un grande entusiasmo e un grande coraggio. E credo che in questi tempi avere coraggio non è da tutti. Grazie, ecco.